Musica Buonasera e bentornati a Talk Sicilia La settimana scorsa, qualche giorno fa, abbiamo ospitato Paolo Di Catano, sindacalista d'USB che ci ha raccontato come funziona il mondo del precariato pubblico in Sicilia e quella puntata ha fatto molto discutere, abbiamo ricevuto molti messaggi la gente vuole comprendere cosa sta succedendo e perché ci sono 40.000 lavoratori in Sicilia che praticamente ormai da decenni non hanno un contratto sicuro, non hanno una certezza occupazionale perché per caso significa caduco, imprevisto, cioè si può perdere da un momento all'altro quel lavoro e soprattutto si tratta di lavoratori che non avranno un futuro previdenziale sicuro in soldoni, avranno una pensione da miseria però parlando con Paolo Di Catano, l'ospite di quella puntata, ci siamo resi conto che c'è un altro aspetto da focalizzare ed è l'aspetto del precariato nel mondo del lavoro privato per questo abbiamo chiesto a Paolo Di Catano di essere nuovamente con noi grazie benvenuto Paolo, ormai si è diventato una presenza costante nei nostri studi è successo un putiferio comunque l'ha puntato del precariato qualcuno ci voleva tirare le orecchie, ma noi siamo giornalisti insensibili al fascino della politica quindi come gli abbiamo detto, Paolo ha raccontato fatti veri, se avete qualcosa a contestare scrivete, dateci una replica, insomma quei fatti sono incontestabili il precario è quello però ora facciamo una piccola sorpresa a chi ci ascolta Paolo ha una doppia veste tu non sei soltanto un sindacalista, ma sei anche un ispettore del lavoro un ispettore del lavoro e quindi quando tu parli di questioni del lavoro purtroppo le conosci bene le vicende che accadono quotidianamente in Sicilia c'è un velo di tristezza negli occhi quando si parla di ispettore del lavoro che cosa hai visto in questi anni? ma ho visto di tutto, ho visto sfruttati lo sfruttamento è legalizzato tra l'altro sfruttamento legalizzato diffuso su tutto il territorio regionale lo dico legalizzato per un motivo semplice non illegalizzato come la pubblica amministrazione noi tendiamo a legalizzarlo tra virgolette in quanto il personale adibito ai controlli è insufficiente e quindi diamo la possibilità ai mascalzoni di sfruttare tranquillamente i propri dipendenti noi sappiamo che quando si parla di lavoro nero di lavoro sfruttato l'immagine che viene subito fuori è quella dei ragazzi che vengono dal terzo mondo sfruttati nei campi di lavoro però tu mi raccontavi prima di entrare nel studio che c'è anche un'altra forma di sfruttamento un po' più occulta è difficile da contestare c'è un mondo del lavoro privato che sfrutta la gente con scarse retribuzioni contratti farlocchi molto spesso si firma un contratto diverso da quello che poi viene realmente richiesto al lavoratore che sta succedendo nel mondo del mercato del lavoro in Sicilia? più che sta succedendo cosa è successo e cosa continua a succedere? nei vari settori purtroppo esiste questa volontà di sfruttamento che non riguarda tutti gli imprenditori ci sono molti imprenditori corretti e onesti che dimostrano molto amore per i propri dipendenti ma ci sono tantissimi altri imprenditori che invece si arricchiscono sulle spalle dei propri dipendenti e questo è valido nel settore dell'agricoltura dove i braccianti agricoli vengono sfruttati in maniera incredibile dove i falsi braccianti sono diffusi cioè ci troviamo di fronte a braccianti agricoli extracomunitari o anche comunitari riferisco ai cittadini dell'Europa dell'Est che vengono sfruttati non sono messi in regola, sono in nero e invece risultano regolarmente assunti altri lavoratori che invece stanno a casa e che poi alla fine si beccano tu hai potuto constatare personalmente fattispecie di questo tipo certo, fortunatamente quei pochi ispettori raccontiamo come funziona il mondo dell'analisi e della repressione del fenomeno del lavoro precario nel privato e del lavoro nero com'è l'organizzata la filiera dei controlli? molto male nel senso che questo è un giudizio però dammi l'organizzazione 160 ispettori 40 ispettori INAIL ispettorato del lavoro quindi quello dipendenti della regione civili ad esempio a Palermo non c'è ne manco uno pochissimi in tutta la regione Sicilia ci sono soltanto 70 carabinieri prestati nel nucleo dei carabinieri prestati all'ispettorato del lavoro quindi se facciamo una somma abbiamo 70 più 130 300 ispettori e manco meno su tutto il territorio quindi sono nuove province che tipo di controllo è possibile quante imprese vanno controllate periodicamente? quante si dovrebbero controllare? almeno 3000-2000 imprese mensilmente si potrebbero controllare ma non c'è un organico capace di affrontare questa cosa quindi occorre intervenire a macchiaire leopardo e siccome gli imprenditori mascalzoni sono molto furbi capiscono quando produrre la loro disonestà sapendo che magari la settimana scorsa in quel paese c'è stata già un'ispezione per cui ritornerà chissà quando chissà quando e quindi nel frattempo loro riprenderanno a delinquere e sfruttando di nuovo i lavoratori lo stesso sfruttamento che troviamo nei grossi supermercati ad esempio spiegaci quali sono i meccanismi di oppressione che avete riscontrato sul piano oggettivo il primo è cioè come funziona la truffa ai danni ai lavoratori? la truffa è che vengono assunti tutti quanti part time quindi questa è una regola fissa dopodiché se vai a verificare tutti questi lavoratori il 100% dei lavoratori svolgono un'attività full time quindi vengono dichiarati alle istituzioni quindi all'Inps e al Ministero del Lavoro per lo svolgimento di un lavoro a tempo parziale e che invece poi si ritrovano e vengono pagati come tempo parziale quindi è uno sfruttamento incredibile lì dove la denuncia c'è solo la parte dei lavoratori la questione è che le denunce ci sono ma l'omertà purtroppo ancora regna nella nostra regione è un'omertà che dipende dalla volontà del lavoratore di mantenere il posto di lavoro quindi in una situazione di debolezza è una volontà complice nei confronti del lavoratore dell'imprenditore è un'omertà frutto ancora di una credenza medievale nel senso che tanti anni fa si diceva che se tu avessi denunciato il tuo datore di lavoro non avessi trovato più lavoro in quel territorio però questo purtroppo capita e ancora è così è così è molto diffusa sta cosa qua tu mi raccontavi che esiste una rete social tra virgolette di imprenditori che si comunica nei nomi di chi denuncia ma non potrebbe una sorta di lista di proscrizione non può essere altrimenti non può essere altrimenti le vecchie abitudini degli imprenditori disonesti continuano a essere presenti e quindi non ci possiamo meravigliare se il lavoratore poi non alza la testa nei confronti di un imprenditore che è uno sfruttatore più che un imprenditore è un soggetto che si arricchisce alle spalle della povera gente e dei propri dipendenti ma ad esempio una cosa che abbiamo riscontrato su tutto il territorio regionale che alcuni imprenditori si fanno consegnare le post pay dai propri dipendenti cioè quindi il lavoratore ha il suo stipendio canalizzato su quella cassa di credito così vuole prevedere la legge perché ormai la cassa di abilità è d'obbligo però fisicamente la carta di c'è il denaro digitale non ce l'ha il lavoratore ma ce l'ha il datore di lavoro il quale poi subito dopo il versamento del bonifico della retribuzione in favore del proprio dipendente va al bancomat e va a ritirare parte visto che tu sei un ufficiale hai le funzioni di polizia giudiziaria che tipo di reato si configura? in questo caso non è estorsione? è truffa c'è di tutto c'è di più e quali sanzioni sono previste? quando li beccate con le mani al sacco il procedimento giudiziario si avvia o si perde nei meandri dei tempi biblici di questo nostro povero paese anche in questo caso io devo lanciare devo spezzare una lancia a favore dei tribunali anche lì la carenza di personale è atavica e quindi non me la sento di scaricare le responsabilità io ricordo qualche anno fa no no ma non è un problema assolutamente non stiamo parlando contro i magistrati ci mancherebbe il problema qua sono gli imprenditori che lavorano con criteri assolutamente criminali il problema è che tipo di sanzione cioè qual è il rischio che corrono in realtà? allora da parte degli organismi quindi dell'INPS dell'ispettorato del lavoro vengono sanzionati pecunialmente per esempio se io faccio diciamo un'operazione di questo tipo sequestro la post pay viene dimostrato che è realmente così l'INPS che sanzione mi irroga? la questione che il rapporto di lavoro se è serio se è vero allora obbliga il datore di lavoro a pagare i contributi perché poi lì vai a verificare che il rapporto di lavoro si è svolto in maniera completamente diversa rispetto a quello che prevede la legge magari con più ore di lavoro ma perché corrono questo rischio di imprenditori? molto spesso c'è questo diciamo questa non è una diceria perché probabilmente c'è un fondo di verità e probabilmente assumere una persona ha dei costi insostenibili per l'imprenditoria anche alla luce della crisi di questi tempi oggi no quindi non c'è oggi no oggi hanno quindi quella ormai era una vecchia credenza popolare c'è possibilità di fare dei contratti flessibili certo anche perché tu oggi con le norme che sono non ci sono più alibi assolutamente no e questa è una cosa incredibile è soltanto un problema culturale cioè questa società specialmente quella siciliana deve essere rappresentata dallo sfruttato e dallo sfruttatore e lo sfruttatore più sfrutta e più viene ritenuto in quell'ambito una persona da rispettare quindi sostanzialmente mi stai dicendo che è un sentire mafioso anche nel mondo del lavoro certo ma la mafia anche in questi casi è presente e lì è il controllo del territorio cioè se la mafia è presente il lavoratore si rivolge al mafioso e chiede aiuto per essere assunto guarda vi fatto venire in mente un episodio della mia carriera professionale di quasi 15 anni fa quando lavorando per un settimanale nazionale venimmo a conoscenza di un corso di formazione professionale organizzato da un grande gruppo della distribuzione organizzata e praticamente loro selezionavano non in base alle caratteristiche ma in base al grado di parentela con i boss mafiosi della famiglia di San Lorenzo quindi la doppia beffa ma la cosa finanziati anche con denaro pubblico dell'Unione Europea la cosa non quindi c'è anche un problema mafia nel mondo del lavoro in Sicilia senza dubbio è fuori dubbio che la mafia è presente perché c'è il controllo e noi lo vediamo anche dal sorriso con il quale nelle varie realtà della regione Sicilia ci accolgono le stazioni dei carabinieri che sono estremamente importanti come diceva Presidente Cossiga i carabinieri sono una delle poche cose serie rimaste in questo paese ed è proprio vero so che citare Cossiga magari non ti avrà fatto più seria ma era per dare uno spoiler ai carabinieri all'arma però devo ammettere che se non ci fosse l'aiuto delle stazioni carabinieri che sono estremamente importanti per noi che conoscono la realtà del paese della provincia noi avremmo moltissime difficoltà invece questa capacità è proprio l'ill anche una questione se riuscissimo a mettere insieme tutte queste realtà di controllo potrebbe avere probabilmente l'attività di vigilanza e di soppressione di questi fenomeni sarebbe resa più facile potrebbe diciamo coprire quelle carenze organiche che sono presenti eppure questo non avviene perché anche lì gli interessi della politica sono estremamente importanti la politica sostiene anche questo tipo di mercato del lavoro secondo te? certo ma la politica è dappertutto l'esempio ultimo di Genova a proposito di linguarità civile dove lì potremmo fare un altro tipo di intervento che c'è da veramente in Sicilia da tremare rispetto a sta cosa rispetto ai soldi che circolano attorno al fenomeno dove pagano anche coloro che hanno patologie gravi sono costretti a oliare questi soggetti poco raccomandabili anche lì se i controlli non avvengono in maniera costante approfondita ognuno di questi si sente impunito si sente tranquillo cioè quello si permette di dire io ho fatto 40.000 imbrogli e nessuno l'ho mai scoperto a Genova io non è la città è Agostino il medico quello arrestato la spacconeria anche sta cosa qui spacconeria e lì sono presenti parecchie figure professionali ma ora scusami a esempio sulla sicilia orientale ci sono alcuni consulenti che fanno il paio con i delinquenti nella zona del Catanese e cosa fanno? cioè qual è la funzione operativa? è quello di imbrogliare cioè di assumere falsi braccianti agricoli per poi avere un tornaconto non soltanto personale ma anche rispetto alla politica rispetto alla mafia perché avere la possibilità di controllare la manovalanza quindi tu mi stai dicendo questa è una cosa che sinceramente non appare molto nei libri che raccontano i fenomeni mafiosi tu mi stai dicendo che la mafia utilizza anche il lavoro dopato e drogato come antenna per controllare il territorio quindi schiavizza i lavoratori mette proprio i uomini nelle aziende che possono essere di controllo e fa avere privilegi a chi appartiene a quella casta il lavoratore paradossalmente nel proprio intimo lo sente di essere schiavizzato però pubblicamente non lo dirà mai anzi ringrazierà quel soggetto che gli ha dato la possibilità di guadagnare quel poco il poco è meglio di niente quante sono le denunce che vengono fatte all'Inps in questo settore specifico ogni anno in Sicilia e secondo te rappresentano la punta dell'iceberg o sono una fotografia in realtà del disastro che c'è per colpa di alcuni purtroppo non sono molte non sono molte quando entriamo noi in azione in tutti questi anni abbiamo azzerato pure aziende inesistenti dove risultavano assunte migliaia di braccanti agricoli ad esempio e quando abbiamo verificato abbiamo annullato tutti questi rapporti di lavoro farsi poi lì ma lì a cosa servivano scusa un'azienda avere contributi all'Unione Europea ma praticamente questo è il racconto della mafia di Nebrodi in pratica anche lì e lì ad esempio abbiamo fatto un intervento proprio lì tantissimi anni fa la mafia di Nebrodi utilizzava dei terreni proprio destinati a loro a seguito di richiesta con magari figure compiacenti del pubblico io però non capisco una cosa perché un'azienda deve assumere le braccia non li paga un'azienda perché deve cioè qual è la truffa cioè come configurare qual è il guadagno qual è il vantaggio potrebbe essere anche un giro di fatture false no perché questa mafia questi imprenditori fatturano prodotti di esistenti di riciclare denaro ad esempio ma quella cosa che dicevamo prima cioè il controllo del territorio sia da parte della realtà mafiosa che della politica sono gli elementi che li fanno muovere poi un imprenditore che si presta a questo è eternamente nelle grazie sono giocato poi sono giocato ma lui entra nelle grazie del politico del mafioso eccetera quindi è un sistema che ancora purtroppo regge regge e però ma tu oggi ci hai offerto uno spaccato di fenomenologia mafioso di cui non si parla più perché in realtà dopo la cattura dei grandi latitanti di mafia da Riina prima Provenza dopo e l'anno scorso adesso recentemente a generale quest'anno Matteo Messia Denaro catturato poi in una clinica privata insomma andiamo a vedere il retroscena con il bar del capo mafia accanto insomma tanti aspetti molto interessanti nel settore dell'arrivedoltura questo è un fenomeno che è presente ma la mafia quindi ancora è molto forte dobbiamo raccontare quando il dottore De Lucia ci dice attenzione abbiamo catturato Messia Denaro però la partita non è vinta assolutamente da questo tipo di analisi dal mondo del lavoro dall'economia sommersa noi comprendiamo che la mafia ma è come non c'è più il padrino ci sono tante realtà che pesano territorialmente allora rendiamoci conto una cosa se non ci fossero queste forme di ammortizzatori sociali illegali la conseguenza è drammatico quello che stai dicendo eh sì sarebbe una ribellione cioè se non ci fossero questi soggetti ad attenuare le ire dei lavoratori ma più che le ire è la fame dei lavoratori le ire dettate dalla fame se non ci fossero questi soggetti che non soltanto vengono sfruttati ma vengono tenuti calmi allora io mi ricordo quando ero ragazzino che lavoravo ho lavorato anche nei cantieri edili c'era il capocantiere che per tenere buoni i lavoratori li chiamava a uno a uno nella sua stanza e diceva mi raccomando se tu fai il bravo e lavori a fine giornata ti regalo un uovo però non dire niente agli altri questa è un'azione che io sto facendo soltanto in tuo favore perché tu sei una bra persona e al mattino lui si chiamava a uno a uno tutti i lavoratori quando vedeva che i lavoratori allentavano un po' il loro ritmo si affacciava alla sua stanza e ad altavoce diceva ehi attieni l'uovo quindi tutti quanti con testa china pensavano che si rivolgesse ognuno a se stesso quindi era un meccanismo per tenere sotto controllo le teste dei lavoratori è un cappio per i lavoratori è un cappio e la stessa cosa succede adesso se qualcuno si permette di ribellarsi viene fuori il soggetto che è preposto al comando e richiama il singolo lavoratore la testa pensante colui che si è permesso di ribellarsi al sistema allora noi quello dell'SB lo stiamo facendo ad esempio a Ragusa con l'essere comunitario che è scomparso da tanti anni perché si era permesso insieme all'USB di ribellarsi al sistema la mafia è sparita è sparita non esiste più eppure nonostante le nostre denunce la politica si è occupata pochissimo di questo caso e questo è elemento dimostrativo su questo caso ci ritorniamo magari ci faccio questo è un elemento l'ultima cosa che vorrei dire è che finalmente all'assessorato al lavoro si è costituito una commissione contro il caporalato allora io spero che questa commissione non sia un organismo di facciata ma che comunque intervenga rispetto a questo fenomeno di sfruttamento quindi faccio un invito al governo regionale affinché dia in prova di voler intervenire su questo fenomeno che lo riguarda soltanto ripeto il settore dell'agricoltura ma riguarda anche il privato andate a guardare le grosse distribuzioni in grossi supermercati e vedete quanto personale ma si vede comunque camminando per quelle si vede la faccia dei lavoratori si capisce quello che sta a fare io ringrazio Paolo Di Chetano per questo altro approfondimento che ci ha dato dopo la prima puntata dedicata al precariato ora abbiamo parlato di lavoro di mafia vediamo che succede ti farò sapere i messaggi che ci arrivano grazie allora grazie a Paolo Di Chetano e arrivederci nella prossima puntata di Talk Sicilia arrivederci ciao ciao ciao